abbiamo fatto le prime prove ieri oggi faremo le seconde prove sul palco del forum ci è avvenuta una voglia proprio di sfondarlo tutto quindi a voi che sarete al forum aiutateci perché il concerto si fa in due anzi si fa in 10.000 10.000 lì presenti poi da casa chissà quanti tutti in piedi che fate video mentre ballate quello che riusciamo a suonare insomma io non vedo l'ora di cantare soprattutto con robbie williams non vedo veramente l'ora sarà una cosa memorabile sarà sarà una bella fine ma ma che dopo mancherà divorateci siamo qui pronti vi aspettiamo qua ciao ragazzi tutti i video li trovate sul sito di xfactor xfactor.sky.it ma qualcosina c'è anche sul canale youtube iscrivetevi siete quasi un milione siamo a 999.999 manchi solo tu god Grazie a tutti.